le persone che amo continuano a morire mi sentivo responsabile ci volevo un eroe se avessi potuto salvarle con una tuta forse ci sarei io al tuo posto ma è per colpa di poteri come questo che sono morte non mia e non tu dobbiamo essere più forti di così stavolta dovrai salvarti da solo sì invece non intendo perderti oh 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 Pit, dai amico, concentrati su di me Avanti, tu sei più forte Mi senti? Vai, Epiti andiamo ormai e Peter è insano beh ce l'abbiamo fatta negli ultimi giorni io scusami Miles ti ringrazio per tutto quanto sono Spiderman non è stato Spiderman a salvarmi è stato Miles e adesso parlerò con Connors lui sa come distruggerlo Harry invece non sapevo il suo padre sta cercando un'altra cura che non richieda a creature aliene se hai bisogno puoi chiamarmi quando vuoi beh prima devo dire a mia madre che ha ancora un figlio lo so è bello riaverti amico che bello che bello che bello Oh shit. Finalmente lo hai tolto Mio eroe Harry Dobbiamo distruggerlo È troppo pericoloso Anche tu finiresti per perderti Come è successo a me Pete Ti prego Devi ascoltarmi Connors dice che è Io ti ho salvato la vita E non vuoi salvare la mia Vuoi che io muoia Voi 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 Oddio... No! Non fare di male! No! No! Fermi! Niente armi letali! Basta! E glielo togliate di dosso! Secondo che ce l'ha proprio fuori... Il ginocchio! Mani sulla testa! Ti servono rinforzi! Ti servono rinforzi! Ti servono rinforzi! Che cosa? Via! Correte! Perfetto! Perfetto del laboratorio quattro! A tutti i pescati! Evapuate l'area di ricerca! Alziamo le armi non lezani! Fuoco! Terry! Io Terry! Basta! Mi sono troppo! Ma non siamo mai stati così vicini a una cura! Sento che ci siamo! Lo... Lo dice... Lo dice anche Peter! Perfetto! 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 Perfetto non si farai ma... Osserva le vostre ricerche! Sto esplorando ogni strada possibile! Tutti quei fallimenti sono normali! Sono normali a lui! Ma non importa a te avere successo! Una volta soltanto! È troppo forte! Isolate l'edificio! Così! Fate evacuare gli altri piani! Io posso bisognavar 25 minuti! Non possojestare gli altri piani! No! No! Io perché io parli di solo! Posso ancora salvarsi. Io guardi tutto! Liberi senza życie! Non so, non so, non so. E' il corridoio di distezione, dove conduci? E' il corridoio di distezione, dove conduci? E' il corridoio di distezione, dove conduci? Il corridoio di distezione, dove conduci? Quanto è a parte quella tutta? Scuola, facciamo via! Versaglio nel mirino! Dove stai andando? Non c'è niente che possa! Non c'è niente che non succederà niente! Non c'è niente che non succederà niente! Perché? Niente! Non so' salvarti! Non so' salvarti! Non dirmi di no! sono già un bacino Eccoci qui! Henry, ti scongiuro! Basta! Signerai per farti ammazzare! Non posso perdere anche te! 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 Così, non ti fermare Mostraci che sai fare Sì, non ti fermi Grazie. Ah, finalmente... Sei stato tu a separarci. Ah, sì? Eccellente! A lungo ho segnato la morte perfetta! Un trionfo di sangue e fiamme! Sarai tu a concedermelo? Hai rovinato tutto! Ferito i nostri amici! Fattissimo! Famo la tua vettetta con le mie carni! Sì! Che sia la mia caccia finale! La fine di tutto! Quanto sei veloce! Lo ragno mi ha molto deluso! Ma tu... Braccami! C'è nulla per vedere! No! 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 C'è nulla per vedere! No! 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 E io... La tua prima! Mostriamo al mondo una morte ideale! Vuoi la morte? No! 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 Succederò alla debolezza! Se devo morire, morirò! Ruggenda! Sei un uomo patetico. Ho conquistato nazioni! Ho domato la natura stessa! Ho trasceso l'umanità! Succedere! 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 Cliccata! Cliccata! Succedere! Sì, sì, sì. Melchia? Tranquillo tesoro, hai finalmente il potere di fare ciò che hai sempre desiderato. Noi correremo il mondo. Come? Lascia che dirò mostri. Andi... Iniziamo il bambino all'interno. Noi, non sono anche il bambino. Noi, non sono anche i bambini. Non sono anche i bambini. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Che cosa hai fatto? Ora come faccio a trovarti? I badge e i MF emettono un segnale. Se Harry ha ancora con sé il tesserino, posso usare il satellite Oscorp per trovarlo. C'è di me lo vedo.